Nei giorni di intenso lavoro per la formazione del governo, l'onorevole della Lega Luigi Deramo affida alle telecamere di Telesirio le sue sensazioni. Il centrodestra dell'Aquila da 26 anni mancava l'appuntamento con un proprio rappresentante all'interno della Camera dei Deputati, quindi è di tutta evidenza che nel momento in cui mi trovo a svolgere il ruolo di parlamentare non rappresento soltanto la comunità politica che mi ha espresso, ma rappresento un'intera città, il capoluogo di regione, l'intera provincia e l'intero collegio elettorale, che purtroppo, come tutti sappiamo, vive un periodo ormai lunghissimo di grande difficoltà, non soltanto dettata dalle fasi del post terremoto, della ricostruzione, ma anche da una crisi occupazionale ed economica, quindi le responsabilità sono tante, c'è l'urgenza di tirare fuori il maggior numero di soluzioni possibili e quindi il lavoro da portare avanti è non soltanto importante, ma anche voluminoso, quindi rispetto a questi impegni deve necessariamente scendere la carica emozionale e salire la concentrazione per dare delle risposte immediate al territorio. Hanno visto in noi l'ultima possibilità per dare voce a questo territorio, quindi ricordo tutti i volti, le facce, le persone, le sensazioni, le parole che in quasi 45 giorni di campagna elettorale mi sono state rivolte da centinaia e centinaia di persone che hanno partecipato ai nostri eventi, così come porto tristemente il carico dentro di me delle mille problematiche che mi sono state sottoposte, che vanno anche oltre quello che è il quadro politico, economico, occupazionale, che ha mille problemi, ma che spesso riguarda la problematica della singola persona, della singola famiglia, del commerciante che non riesce a pagare l'affitto a fine mese, del disoccupato che purtroppo non riesce a garantire una vita dignitosa alla propria famiglia, del disabile che non ce la fa ad andare avanti perché quello che percepisce non è sufficiente in termini economici per affrontare una vita dignitosa. Insomma sono tutte sensazioni che mescolate tra di loro ci hanno dato, mi hanno dato quella rabbia positiva per dire no, insomma dobbiamo farcela, dobbiamo riemergere, dobbiamo creare le condizioni affinché l'Aquila e la sua provincia tornino ad una condizione di vita sociale, politica ed economica di assoluta importanza.